Io sono Francesca Meoni e di professione faccio la guida turistica a Firenze. Per me è stata un'esperienza bellissima, assolutamente. È stato facile e difficile allo stesso tempo. Per quelle che sono anche le mie caratteristiche professionali è stato difficile, ma facile perché comunque abbiamo avuto qualcuno che ci ha guidato nel modo giusto, secondo me. E una delle cose che io mi ero posta di obiettivo all'inizio di questo percorso era trovare nuove sfide, e per me questa è una bellissima sfida. Il team com'è andato? Bellissimo, un ambiente di lavoro meraviglioso e tutti i brainstorming infatti sono stati fondamentali. Bellissimo, un ambiente di lavoro.